Pesero città europea dello sport dal 2017. Pesero, futura capitale italiana della cultura 2024, Pesero città in cui la filosofia è di casa da almeno un decennio. Tre percorsi per tre battiti che da settembre palpiteranno all'unisono. Battiti sarà infatti il primo festival della cultura e filosofia dello sport che dal 21 al 24 settembre creerà nel Parco Miralfiore un nuovo contenitore in cui dedicarsi alla dimensione culturale, filosofica, epica ed inclusiva dello sport. Manca sperimentazioni, dimostrazioni e attività pratiche coordinate dal motore organizzativo di Paolo Pagnini e Maurizio Radi di Fisoradi Medical Center che hanno odiato il festival presentato nel comune di Pesero. È sì un evento che si svolgerà in settembre ma inizia oggi come percorso, un lungo percorso sul quale vi terremo comunque informati perché anche il percorso stesso fa parte dell'idea e del festival. Un festival che punta a riassumere in un unico spazio che abbiamo identificato come lo spazio del Parco Miralfiore che è strepitoso e perfetto per questa per quest'idea. Tre grandi temi, la cultura che a Pesero ovviamente domina, la filosofia che a Pesero è sempre ospitata molto volentieri e lo sport. Ricordiamo che Pesero è una città che ha avuto il titolo città dello sport nel 2017 ma che addirittura vanta 350 società sportive e 30.000 tesserati. Insomma è, si può dire a tutti gli effetti, una città dove lo sport si respira quotidianamente. Noi riassumiamo questi tre temi e li abbiniamo allo sport praticato perché non andremo solo sul palco a raccontarlo lo sport attraverso dei protagonisti della comunicazione sportiva e della filosofia e della cultura dello sport ma abbineremo anche delle occasioni di sport praticato. Tutto questo in un a tre giorni che è un festival ma che noi ci immaginiamo come una grande festa. A dare supporto al festival anche un maestro della narrazione sportiva come Paolo De Chiesa, ex Valangazzurra e noto telecronista Rai per lo sci. Ho accettato l'invito a far parte di questo team organizzativo, di questo evento con grande entusiasmo perché lo sport è la mia professione ma è soprattutto la mia grande passione. Oggi Fisioradio Medical Center vuol portare un messaggio, un'informazione a tutte le persone sulla salute e sul benessere e quindi questo Battiti Festival che parla di filosofia e cultura dello sport naturalmente ci rispecchia in tutto quello che è la nostra filosofia, la nostra mentalità. E cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che associare poi già cose che ci sono nella città perché Pesaro città dello sport nel 2017, città della cultura nel 2024 e in uno scenario come il Parco Miralfiori che oggi come oggi è veramente una chicca della città, lo sport non lo dobbiamo vedere solo come un evento di attività agonistica ma lo sport è movimento, lo supporto è attività fisica e tutto questo sappiamo come oggi ci può portare a vivere meglio e anche a vivere di più, infatti se vediamo la vita media del cittadino si è allungata notevolmente. Tutto questo è normale, è grazie alla medicina, è grazie alla scienza ma è grazie anche a un migliore stile di vita e quindi noi non facciamo altro che continuare a promuovere e a portare informazione da questo punto di vista a tutte le persone che ci seguono da tempo.